Buona parte della campagna elettorale è stata attraversata dal dibattito sul reddito di cittadinanza. Una vera e propria guerra di religione tra quelli che dicevano che non si doveva cambiare e quelli che invece dicevano che forse andava addirittura eliminato. Ora che le elezioni sono terminate bisogna trovare una soluzione, bisogna cioè tradurre il dibattito in un'azione di cui abbiamo molto bisogno in questo paese perché va dato atto di una cosa importante. Il reddito di cittadinanza oggi come oggi costa alle casse dello Stato circa un miliardo di euro al mese e sinora, al di là del legittimo, doveroso e necessario sostegno a tante persone che hanno bisogno di avere un sussidio da parte dello Stato non ha prodotto nuova occupazione. Quindi noi abbiamo la necessità e il dovere, specie in considerazione della situazione drammatica che l'economia dell'Italia e non soltanto l'Italia vive, di immaginare come poter finalmente attuare delle politiche del lavoro che siano utili, non soltanto a sostenere le persone in difficoltà ma anche a creare occupazione e quindi aiutare il nostro paese a uscire fuori da queste condizioni di difficoltà. È evidente che abbiamo un dato di fatto importante. Nelle pieghe di normativa fatta male sul reddito di cittadinanza ci si sono infilati tanti furbetti. Questi vanno contrastati, cambiando le regole, introducendo dei paletti molto rigorosi che tolgono spazio a chi si approfitta di uno Stato di diritto che non è in grado di fare controlli e continua a vegetare senza avere reali interessi o addirittura senza avere neanche la voglia di trovare un'occupazione. Quindi per un verso bisogna cambiare le regole perché sia possibile e necessario il controllo anche su base quotidiana del diritto alla permanenza nelle liste del reddito cittadinanza. Dall'altro lato, forse la parte più importante, è come trasformare questo strumento in qualcosa che aiuti davvero a fare occupazione. È questa in fondo la vera rivoluzione che noi dobbiamo immaginare si debba mettere in campo in questi prossimi mesi. È chiaro che oggi abbiamo bisogno di investire seriamente sulle politiche attive del lavoro, nel senso che l'iscrizione nell'elenco dei percettori del reddito cittadinanza oggi non è accompagnata da un percorso che individui e setacci quelli che ci sono soltanto per lucrare il sussidio rispetto a quelli che invece vogliono lavorare. Quindi bisogna immediatamente creare questo distinguo. Poi togliere dal meccanismo del reddito cittadinanza quelli che non sono in condizioni di lavorare perché magari sono anziani, perché sono malati, perché non sono ormai più abili al mercato del lavoro e per questi deve permanere un meccanismo puramente assistenziale come giusto che sia. Ma chiarendo che non sono parte di questo processo? Perché una volta snellito dei numeri di quelli che non vogliono e di quelli che non possano, la parte grossa, quella che cioè è fatta dai soggetti che devono essere accompagnati all'occupazione, possa finalmente essere gestita con modalità operative e concrete. Quindi la presa in carico deve essere accompagnata da una costruzione di un percorso che sia quello di verifica delle effettive competenze delle persone, di avvio a corsi di formazione professionalizzante, fatti però non astrattamente ma in sinergia col sistema delle imprese, quindi chiedere alle imprese che i lavoratori vogliono avere e costruire insieme dei percorsi di questo genere. Al tempo stesso bisogna anche avere degli esperti che analizzino e sappiano come funziona il nostro mercato del lavoro, di che cosa in generale c'è domanda e c'è necessità. Questo insieme di regole può già snellire e sbloccare buona parte di un meccanismo che è totalmente arrugginino. Al tempo stesso un altro passaggio fondamentale che va immediatamente compiuto è quello di rendere più vantaggioso il ricorso ai percettori del reddito di cittadinanza da parte delle imprese. Come fare? Una parte almeno del trattamento indennitario che viene oggi erogato ai percettori deve andare alle imprese che li assumono, in modo tale che sia conveniente per loro, perché si abbassa il costo del lavoro e sia anche uno strumento per rendere più vantaggioso, più appetibile il percettore del reddito di cittadinanza per l'impresa vera. E chi non vuole va fuori, come è giusto che sia. Oggi è molto complicato essere addirittura espulsi dal meccanismo se non vieni trovato in flagranza di imbroglio. Ma se invece abbiamo delle regole molto chiare, se l'azienda ti chiama vai a lavorare, se l'azienda ti chiama e non vuoi andare esci fuori, è chiaro che queste cose possono essere messe in campo. Insomma, abbiamo un percorso davanti nei prossimi mesi che deve essere quello della chiarezza, anche perché, e questa è una considerazione di carattere generale, finché il reddito di cittadinanza può diventare uno scambio di tipo elettorale, non servirà mai a migliorare l'economia e il lavoro di questo Paese. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS